salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video avrò messo un titolo abbastanza a chiappino ma neanche tanto perché è quello che è accaduto veramente una persona una ragazza non poteva più occuparsi del suo canale e per una cifra veramente molto bassa rispetto a tutto il lavoro che c'è dietro grafiche attrezzature idee e quant'altro mi ha ceduto il suo canale youtube che si chiama jellyfish e ve lo scrivo qui ve lo lascio in descrizione sarà aggiornato sicuramente molto più frequentemente di questo su questo canale ho deciso di non mettere quasi più video forse ne arriverà un altro nelle prossime settimane ma non ve lo prometto per cui non vi anticipo niente non vi lascio aspettare niente perché potrebbe davvero non essere così come da titolo si tratterà di un canale smr quindi evitate di iscrivervi se non provate smr se i rumori vi danno fastidio evitate di iscrivervi per prendere in giro la smr a questo punto quando pubblicherò questo video cercherò di fare in modo che sia pubblicato il primo video anche sul canale dove annuncerò il cambio poi metterò due video vecchi che avevo su questo canale e che molti avevano apprezzato molti altri no e poi si inizia con il lavoro vero tra virgolette con nuove idee nuovi contenuti nuovo tutto la cosa mi ispira molto di più di un canale normale mi dispiace dirlo perché quello che faccio io ormai lo fanno in tanti forse l'idea di iniziare un progetto di nicchia che sarà seguito solo e soltanto spero da persone veramente interessate mi entusiasma di più anche la pagina è stata riconvertita quindi non ci saranno più video di true colors su quella pagina non mi preoccuperò minimamente di pubblicizzare video di true colors su quella pagina perché anche la pagina ha a questo punto preso il nome del canale quindi vi lascio in descrizione il nuovo canale la pagina facebook del nuovo canale e per chi volesse seguirlo io vi aspetto per tutti gli altri ogni tanto ci vedremo ma molto meno che in questo canale spero che rimaniate iscritti e ci vediamo alla prossima ciao